In effetti sono un discorso serio, hai fatto un discorso serio che ha un senso o hai fatto un discorso così a casaccio, hai fatto un discorso a casaccio, vero? Hai fatto un discorso così per farlo, guarda che faccio, dice solo cazzate sta bimba, ho ciò che si scopa, attenzione, che tu sei piccina, ciò che sia piccolare, vabbiamo una cosa, va troppo tempo, in effetti dov'altro hai fatto un discorso di un incendi mollo per fare?" Non sta neanche in piedi, non sta neanche in piedi, non sta, non sta neanche in piedi, eh? Così, ma, che fa un po' di stretching, non vedete cosa fai, uuuuh, che paura, non c'è neanche i denti davanti, c'è i dentini dietro belli nuovi, ma quelli davanti non ce li hai ancora, c'è quattro denti in bocca, ah no, guarda che sono usciti quelli nuovi, eh? Belli! Che brutta faccia! C'è una brutta faccia, c'è una brutta faccia, poco consigliabile, sì sì sì, no, vada, io onestamente non ti consiglierei fra gli amici, le persone consigliate non ti consiglierei, con la faccia lì poi, eh sì, è inutile il pezzo, mmm 又 ràbop vedeva, eh, che brutta faccia, balla tv potendo ràbop vedeva, c'è un z這裡, si si? Sì, sembra be' essere. Eh sì, puoi prenderla? No, lasciamola lì, non te la prendevo. Hai visto l'acqua che scende? La donna. Sì. Sì. Un orale. Un altro. La mette a morsi. La mette a morsi. Senza il prezzo come fanno? Anche il Kenor che partecipa, tutto in nera. Ah, il Kenor che ne sa? Sì, sì che partecipa, non so se partecipa a fare la mezza. Non so se la fa in montanza di pannelli, sinceramente. Allora, prezzo Kenor? Per la�ancio l'inverno del tempo. Un altro termine nuovo. Un altro. Io te abrò. Grazie a tutti.